Ragazzi, benvenuti su Gassiub Drums, è proprio così come avete letto nel titolo. Oggi vi regalo una batteria, sono serio, è la verità, mi sono anche messo gli occhiali sporchi, tra l'altro, ma li ponisco un attimo, per farvi capire che sono veramente serio. Ed eccola qua la batteria che vi voglio regalare oggi. Sono arrivato a 33.333 iscritti e ho pensato, per un numero così, devo assolutamente fare un giveaway, devo assolutamente regalare qualcosa ai miei iscritti. Quindi, insieme a NUX e Freen Export abbiamo deciso di regalarvi questa batteria. Quindi, questo è un giveaway, uno di voi si porterà a casa questo fantastico strumento qua, che in realtà ho lasciato nella scatola perché ci sono già un bel po' di video che ho fatto in cui suono questa batteria qua. E ovviamente vi lascio il link qui sotto in descrizione per andare a vedere la batteria, come funziona, i link dei video che ho fatto. Adesso, prima di spiegarvi bene come funziona il giveaway e tutto, spiegarvi come fare per partecipare, eccetera, è semplicissimo. Ci sono tre cose da fare, super semplici, ma vi faccio un po' sentire questa batteria. Quindi, riprendo qualche spezzone di video in cui ho suonato questa batteria elettronica NUX DM210. Quindi, come avete visto, questa batteria sa veramente il fatto suo. Si dice così, sa veramente il fatto suo. Ha veramente il fatto suo. No, sa veramente il fatto suo, è giusto. Mi ha veramente colpito questa batteria per varie cose. Il fatto che ci siano mille suoni, delle canzoni già utilizzabili all'interno, il fatto che si possa registrare un sacco di cose. E adesso voglio spiegarvi però come fare per partecipare a questo contest. È semplicissimissimo. Ci sono tre cose da fare che vi dico e poi avete anche scritte qui sotto in descrizione. Una cosa che ho dato un po' per scontata, ma ve la dico lo stesso, è che essendo un giveaway per i miei iscritti, dovete essere iscritti a questo canale. Quindi, se ancora non siete iscritti, il punto zero, diciamo, prima di partire con i tre punti fondamentali, il punto zero è essere iscritti a questo canale. Quindi andate qui sotto, cliccate su iscriviti e poi continuate il video così vi faccio vedere i tre punti. Adesso continuiamo. Prima cosa da fare, andare sul link in descrizione che vi riporta a gastubedruns.it, aprite quella pagina lì, scrollate fino in fondo in cui ci saranno due spazietti in cui inserire il vostro nome e la vostra mail. E poi ovviamente cliccare sul pulsante che c'è sotto. Dopo aver fatto questo, andate sul secondo link che c'è in descrizione che vi riporta alla pagina Facebook di Nuex. Lì quindi dovrete aprire la pagina Facebook, cliccando sul link che trovate sempre in descrizione, cliccare su segui, quindi dovrete seguire la pagina Nuex e poi, ultimo step, commentare il video. Commentare proprio questo video qua, quindi scrivermi un commento in cui vi chiedo di inserire il nome che avete scritto sul mio sito, gastubedruns.it, quando avete scritto nome e mail, vi chiedo di inserire quel nickname lì, quindi vi scrivete nickname lucamicelottidruns.it, come eccetera, quello che avete scelto, e poi scrivetemi qualcosa, scrivetemi che cosa ne pensate di questa batteria se avete visto i video, scrivetemi un qualcosa, scrivetemi un nome di un frutto, non lo so, scrivetemi qualsiasi cosa, basta che ci sia il nickname e qualcos'altro, scegliete voi, scrivete una cavolata, quello che volete. Questo è importantissimo per dei commenti, perché proprio tramite i commenti andrò a decidere chi sarà il vincitore andando a estrarre a sorte. Vi dico già che se scrivete 63.000 commenti vale come uno, non è che più commenti scrivete, meglio è, quindi basta uno, tranquillo, avete le stesse possibilità scrivendone uno o scrivendone 100.000. Come vi dicevo, i commenti li uso per andare a decidere il vincitore, successivamente si andrà a controllare se il vincitore, oltre a commentare, ha anche seguito tutti gli altri step e ovviamente se li ha seguiti tutti, vincerà questa fantastica batteria. Ultima cosa, che mi stavo dimenticando ma è importantissima, e cioè che l'estrazione verrà fatta live, quindi sul momento. L'estrazione sarà in live lunedì, che numero è lunedì? Lunedì 11 aprile alle ore 21, qui sul canale YouTube di Gastube Drums. Quindi mi raccomando, tutti sintonizzati, ovviamente se non ci sarete non vi preoccupate, perché la live rimarrà comunque visibile, quindi avrete ancora poi qualche giorno per capire se avete vinto o no. Io penso di avervi detto tutto, ricordatevi quindi di andare sul sito gastubdrums.it, in fondo alla pagina inserire il vostro nickname e la vostra mail, poi step 2 che trovate sempre qui sotto in descrizione, andare sulla pagina Facebook NuEx e cliccare mi piace, step numero 3, commentare inserendo il vostro nickname, che avete inserito precedentemente sul sito gastubdrums.it, e scrivermi qualcos'altro come commento anche sul nickname, vedete voi. Però a me piace sempre quando mi scrivete le cavolate, quindi mi faccio una risata, scrivetemi qualche cavolata. E poi infine l'11 aprile alle 21 in live, capiremo chi ha vinto questo fantastico strumento qua. Quindi con questo io penso di avervi detto tutto, mi raccomando commentate, fate tutto quello che dovete, vinca il migliore o il più fortunato in questo caso. Ma basta, mi sembra di aver dimenticato qualcosa, però spero di no. Quindi noi ci vediamo al prossimo video, ciao! Grazie!